Questa non è una guerra e non è nemmeno una guerra civile. Mi manca la definizione giusta. È la prima cosa a cui ho pensato, visionando tutti i film prodotti in quegli anni dal collettivo cinema militante di Milano. Eravamo una decina di amici, alcuni studenti e altri lavoratori. Cercavamo di documentare quello che vedevamo nella città, che succedeva attorno a noi. Non volevamo in nessun modo manipolare o giudicare quello che era la realtà delle cose che ci capitavano di vedere, di filmare, di vivere attorno a noi. Non ci fu un fondatore del CCM, ci fu uno smosi. Eravamo tutti militanti e tutti appassionati di cinema. Da subito il CCM diventa testimone oculare di tutto quello che stava succedendo, anche di episodi molto difficili da raccontare. Volevamo dare questa immagine calda, star dentro, a contatto con gli altri, sentirci con gli altri, sfilare con gli altri. Sono immagini molto dure. Mai questi materiali sono stati usati per quello che sono, liberi di raccontare da soli, come veri e propri documenti storici. Il lascito di quegli anni è ancora oggetto di grandi discussioni, di grandi controversie, di grandi passioni positive e negative. C'è chi vede quel periodo come un periodo distruttivo. Il periodo tra il cane e il lupo è il momento in cui il sole cala e arrivano le ombre della notte. Il periodo di che è un paio, è un paio, è un paio.